Ben trovati, l'informazione di Senigallia Web TV, giovedì 10 dicembre, le notizie. La corretta informazione come antidoto al calo delle vaccinazioni, questo è il messaggio lanciato dal Presidente della Commissione Sanità della Regione Marche, Fabrizio Volpini. Il calo delle vaccinazioni obbligatorie, spiega Volpini, è oggi un dato di fatto, un trend negativo di cui le Marche detengono purtroppo la maglia nera, che in questi anni è andato consolidandosi. E una delle cause principali di questo decremento è da attribuirsi alla forte e scorretta campagna di controinformazione che professionisti della menzogna hanno condotto con tenacia associando l'assunzione di vaccini a problematiche o a disfunzioni salutari, cosa assolutamente falsa. Occorre vaccinarsi per l'influenza perché chiaramente il vaccino offre una grande protezione, chiaramente non si devono vaccinare tutti, ma chiaramente determinate categorie, che sono gli anziani, alcune categorie a rischio, chi lavora appunto in servizi importanti, perché chiaramente l'influenza, seppur malattia banale, in persone con particolari problematiche, anziani, cardiopatici, persone con bronchite cronica, può avere come dire delle conseguenze importanti e magari portare anche a situazioni gravi. Tra l'altro, anno scorso abbiamo avuto appunto una situazione particolare, sono state proprio all'inizio della campagna vaccinatoria, sono emerse appunto delle morti attribuite erroneamente al vaccino e quindi c'è stata un'interruzione che ha comportato notevoli ricoveri nelle medicine per appunto complicanze da influenza e anche qualche morte attribuibile a questo. Quindi il vaccino deve essere fatto insomma. Cambiamo argomento, dal 19 dicembre al 10 gennaio all'Expo Ex di Senigallia e ritorna alla mostra La gioia del presepe. A Gio Fiorenzi il comune ha recentemente dedicato una mostra retrospettiva che ha contribuito a far conoscere la sua inesauribile capacità di esprimersi attraverso le più svariate tecniche di rappresentazione. Ostra in scena i teatranti di Frodo con il re del Drury Lane che racconta la storia di Edmund Keen, una delle figure più appassionanti del teatro di tutti i tempi. La gavetta, lo splendore, la decadenza di un personaggio sicuramente complesso e dalla vita leggendaria. L'appuntamento con questo suggestivo lavoro dei teatranti di Frodo appunto è al Teatro La Vittoria di Ostra, sabato 21 alle 21.15. È previsto per le serate del 10-11 febbraio al Teatro La Fenice di Senigallia il debutto del nuovo spettacolo di David Zanzanzalone. Il celebre artista senigallese si cimenta questa volta con un grande classico del teatro italiano, l'Arlecchino Salvatore di Due Padroni, un Arlecchino ambientato nell'Italia della fine anni 40. Il gruppo storico La Castellana di Scapezzano festeggia il decennale della sua fondazione. La Castellana nasce nel 2006 quando gli organizzatori della Sagra del Paese, allora alla decima edizione, intendono darle una connotazione storico rievocativa. Il gruppo si compone mediamente di una cinquantina di figuranti. I costumi medievali, frutto di meticolosa ricerca, sono stati disegnati e confezionati da una stilista del Paese che con la collaborazione di alcune donne gratuitamente vi ha speso tempo e arte. All'inizio era solamente una sfilata in abiti d'epoca, con sfumi storici, poi cinque anni fa è partito anche un gruppo di giovani che fanno animazione, fanno spettacoli teatrali e balletti. Il gruppo è rimasto sempre attorno alle 60 persone con in più questa importante partecipazione di giovani che fanno questi spettacoli teatrali. Il gruppo si occupa di animare innanzitutto la nostra festa castellana, organizzare e animare i tre giorni della sagra che facciamo paesana. Poi andiamo nelle altre manifestazioni, l'initro, che siamo andati anche a Firenze, a Palazzo Pitti, quattro anni fa, il 6 di gennaio. Quest'anno dobbiamo ritornarci con una piccola delegazione, dieci figuranti, agli esi tali di San Floriano. Facciamo corteo e facciamo spettacoli di rievocazione storica. Terminiamo con le condizioni del tempo di venerdì 11 dicembre sulle Marche. Cielo sereno, assenti le precipitazioni, i venti deboli nord-occidentali, temperature massime in aumento, altri fenomeni, foschie e locali nebbie mattutine. Previsioni elaborate da Assam. È tutto anche per oggi, grazie. L'appuntamento è per domani. A presto. Cielo sereno, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.